Non si può oggi, ancora oggi, morire mentre si espeta un lavoro. Dio non lo vuole. Finché si morirà sul posto di lavoro, vuol dire che siamo ancora alla preistoria della civiltà e siamo ancora all'alba, all'alba della democrazia. Don Cicciolo scandisce diverse volte e la basilica di Bitonto è piena perché la città, fa notare il sindaco, questa volta si sente un'unica famiglia, stretta intorno ad Alessio unico sopravvissuto alla tragedia di Molfetta. Papà Nicola ha dato quella volta una vita a te, caro Alessio. Le bare di Nicola e Vincenzo, 49 e 28 anni, sono una accanto all'altro come angeli che possono volare abbracciati, dice un parente. Lo strazio dei fratelli di Nicola è senza fine, come l'abbraccio con cui Alessio, salvato dal padre e dal fratello, accompagna il feretro di Nicola. Due passi più indietro la moglie, la mamma e l'altro fratello dicono addio a Vincenzo.